Per quattro anni ha picchiato, minacciato e insultato l'ex convivente, rendendole la vita un inferno. Gli agenti della questura di Padova hanno arrestato un 32enne rumeno in esecuzione di una sentenza della Procura della Repubblica del capoluogo Euganeo, che prevede due anni di reclusione per condotte violente nei confronti dell'ex convivente. Dal 2016 al 2020, infatti, l'uomo ha vessato fisicamente e psicologicamente la compagna. Le indagini hanno appurato come l'uomo picchiasse la donna e, comprese violente, la scagliasse contro mobili e mura di casa. Accecato dalla gelosia, l'uomo impediva alla compagna di uscire con le amiche, chiudendole in casa. Nell'estate del 2020, lei tentò di cacciarlo dall'abitazione, ritrovandoselo però davanti a casa, nel cuore della notte, completamente ubriaco. L'uomo ha sfondato la porta gridando che avrebbe ammazzato tutti, una situazione che sarebbe precipitata se non ci fosse stato il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, da cui il processo la condanna e l'arresto che arriva all'indomani di una vicenda come il duplice femminicidio di Vicenza che ha scosso l'opinione pubblica.